Didattica, innovazione, sviluppo, tecnologie e risorse. Sono queste le cinque linee guida del convegno tematico organizzato per lunedì 17 dicembre alle ore 10.30 presso l'auditorium dell'Istituto Ferrari di Battipaglia. Un momento di confronto sui temi e sul rapporto fra scuola ed Unione Europea, al quale parteciperanno anche gli eurodeputati Andrea Cozzolino del Partito Democratico ed Isabella Di Nolfi del Movimento 5 Stelle.